Ciao ragazzi, ci troviamo a Marina degli Eregai e ci troviamo con Antonio Lombardo, il titolare della Marine Wizard. Antonio mi ha ospitato in questi giorni, mi ha coccolato, abbiamo fatto le prove del gommone, abbiamo sostituito le eliche, abbiamo fatto delle belle mangiate, siamo stati insieme, ci leggo una grande amicizia, ma a questo punto Antonio presentati per chi non ti conosce. Grazie Sergio, sono Antonio Lombardo, titolare di Marine Wizard, noi siamo concessionari Suzuki per il Tonente Ligure, provincia di Savona e provincia di Imperia, abbiamo un ufficio commerciale a Varazze, l'officina e il cantiere qui a San Stefano al Mare, dove ci troviamo adesso, siamo nella nostra base operativa. Rappresentiamo diversi marchi di imbarcazioni tra cui Prestige, Jeannot, Sessa, Idea Marine, Tuccoli, Marchi da Pesca. È stato un grande onore avere qua Sergio che è un amico, siamo entrambi palermitani, mi dispiace che parte, non sarei tenuto un altro mesetto perché è stato un grande piacere di salizia. Era l'unico che non era dispiaciuto che praticamente arriva nero. Ringraziamo anche tutti gli altri concessionari che poverini, insomma, hanno dovuto ritardare le loro situazioni, ma qua sono stato non bene, ma benissimo e ancora una volta Antonio, grazie mille. Guardo voi che sei sempre benvenuto. Eh, il cappellino. Ciao, a presto.